Wang Chunyang Ho letto che in Cina vi sono stati momenti in cui la casta sacerdotale taoista è entrata in conflitto con quella confuciana per rivendicazioni sociali, come durante le rivolte guidate da Zhang Zue nel 184. Poi nel corso dei secoli c'è stato un progressivo adattamento tra confucianesimo e taoismo, al punto che spesso sacerdoti confuciani hanno abbandonato il loro ufficio burocratico per dedicarsi al misticismo taoista o buddista o addirittura ad entrambi, come successe a Wang Chunyang, 1112-70, fondatore del Zhuang Zentao, la via della realizzazione della verità, sintesi del confucianesimo, buddismo e taoismo. Perché? Commento. Perché è ineluttabile che tutte le religioni per l'influenza della maggiore evoluzione dell'umanità giungano a fondersi nel misticismo, impropriamente chiamato «religione della coscienza». Per l'influenza Grazie.